questo video è sponsorizzato da jlc pcb un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere pcb di ottima qualità in pochi giorni l'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli due giorni basta fare l'upload dei file gerber sul sito specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere provate il nuovo servizio di montaggio smd beneficiando di uno sconto di 7 dollari sulle spese di montaggio ciao a tutti nel video 550 abbiamo affrontato la riparazione di uno oscilloscopio analogico era un Itachi modello V209 un 20 MHz due canali questo video è la parte 2 dove vorrei fare una specie di tutorial su come utilizzare un oscilloscopio analogico quindi vecchio stile credo che sia molto importante conoscere come funziona questo tipo di strumento perché è molto vicino alla realtà dei segnali che si misura e quindi capirne bene i meccanismi e le funzionalità permette poi di capire molto bene anche come funzionano gli oscilloscopi moderni e quali sono le differenze quindi in questo video illustreremo cosa significa triggerare un segnale come scegliere la base tempi come tarare e compensare le sonde dell'oscilloscopio quindi diciamo un video di base ma che ritengo comunque molto importante buona visione a frontale abbiamo il piccolo CRT qua sull'angolo a sinistra il canale A o canale 1 sulla parte estrema sinistra il canale 2 sulla parte destra con controlli e knob replicati ad eccezione del canale 2 che in più ha anche la possibilità di invertire il segnale qua abbiamo la parte di trigger e selezione la base tempi e la modalità di funzionamento qui al centro con questo selettore nel riquadro mode sul pannello posteriore notiamo l'ingresso in continua DC 11-14V con questo connettore fusibile protezione di 2A qua invece la sezione in alternata e vedete che c'è la possibilità del 100V americano con un fusibile da 1A e il 200V diciamo europeo e giustamente fusibile metà qua abbiamo questo pannellino con la vite che probabilmente è la configurazione vedete che ha la freccettina sul 200V e ci dice che è adattato al mercato europeo poi abbiamo l'ingresso extra blanking da questa parte la regolazione del focus del nostro CRT con trimerino sulla parte posteriore un morsetto di terra per collegare a terra la carcassa del nostro strumento e poi qualche selettore per decidere l'alimentazione in alternata in continua con la possibilità anche di eseguire questo battery charge quindi ci immaginiamo che possa essere anche uno strumento con una piccola batteria ricaricabile bene adesso che ci siamo tolti tutti i dubbi su eventuali guasti dopo tanti anni che era spento possiamo divertirci un po' con questo oscilloscopio analogico che secondo me è un ottimo strumento soprattutto per chi vuole cominciare ad utilizzare strumenti di elettronica in quanto rispetto a un moderno oscilloscopio digitale lo strumento analogico ci permette di vedere il segnale veramente come si presenta infatti non abbiamo nessuna operazione di digitalizzazione ma quello che noi vediamo su il nostro CRT è esattamente il fascio di elettroni che viene deviato dalla grandezza analogica che andiamo a misurare la prima cosa che possiamo fare è rendere più nitida la traccia per farlo andiamo ad agire sul focus che è un potenziometro posto sul pannello posteriore lo giro lentamente cercando di mettere a fuoco appunto il cannone elettronico ecco vedete che si sta assottigliando andiamo a cercare il livello ottimo direi che più o meno così mi sembra un bel fascio più pulito di prima sicuramente tenete poi presente che nel video c'è comunque una distorsione del fascio voglio dire che io ho occhio nudo vedo una riga bella precisa e guardando nella videocamera invece vedo che c'è ancora un po' di elone comunque il controllo di focus è funzionante andiamo ora a posizionare il nostro fascio elettronico esattamente al centro dello schermo quindi agiamo sul controllo di posizione orizzontale questo knob che ha una regolazione fine e una più grossolana e andiamo a riportarlo esattamente al centro ecco vedete qua lo sto tirando dobbiamo fare in modo che esatto i due estremi combacino esattamente con i lati del nostro schermo quindi è bene agire prima con la regolazione grossolana questa manopola nera e poi con quella fine, quella rossa per andare a centrare perfettamente vediamo ora la deflessione verticale ricordiamoci infatti che il fascio elettronico è deviato nell'asse X e Y grazie a due bobine che sono poste sul tubo catodico e permettono appunto la deviazione del fascio elettronico se vi interessa sapere come lavorano queste bobine potete guardare il mio video 294 dove con un arduino mi sono divertito a manipolare uno schermo CRT proprio sulle bobine di deflessione poi ho visto che ho fatto anche un altro video il 376 che spiega le caratteristiche e le differenze fra uno oscilloscopio analogico e uno digitale di ultima generazione vediamo ora la deflessione verticale suppongo che questo sia il canale 1 vediamo se è vero sì ecco vedete che è sensibile alla deflessione quindi andando da un estremo all'altro il nostro raggio di elettroni viene deviato lo mettiamo al centro andiamo ad agire sull'altro controllo canale 2 vediamo se salta fuori eccolo abbiamo anche il secondo canale quindi le due deflessioni verticali funzionano perfettamente ogni canale ha un piccolo selettore che mi permette di selezionare fra ground cioè in pratica il segnale viene portato a massa e quindi quando io lo vado a spostare in questo modo sto introducendo un offset ma il segnale è zero oppure un accoppiamento in continua spingendo in giù che significa che il mio segnale sarà visualizzato anche con eventuali tensioni continue presenti oppure un accoppiamento in alternata qui in alto dove viene inserito un condensatore serie e quindi si vedrà la sola componente alternata del segnale quest'ultima modalità in alternata è molto comoda ad esempio se si vuole vedere il ripple residuo su una tensione ad esempio se rettificate la 230 volt della tensione elettrica avrete un grosso valore in continua che è la rettificata diciamo 300 volt circa dati dal vostro condensatore e poi avrete una piccola ondulazione in alternata per vederla quindi è opportuno rimuovere il valore continuo quindi si accoppi in alternata e sullo schermo rimarrà solo il valore alternato della componente di ripple in questo momento io ho i due canali perché il mode è settato su questo alt ovviamente se vado su canale 2 avrò solo il 2 canale 1 solo l'1 e poi abbiamo altre modalità interessanti come la xy che ci permette di visualizzare invece che un segnale rispetto alla base tempi un segnale rispetto all'altro per cui avremo che la bobina di deflessione verticale sarà legata a un canale quella di deflessione orizzontale all'altro canale questo è molto comodo per vedere lo sfasamento fra due segnali se vi interessa la modalità xy potete guardare il mio video 333 dove viene utilizzata appunto la modalità xy per identificare il valore di una induttanza ignota oppure per creare le figure cosiddette di lissa juice ho il video 187 dove si creano diverse figure appunto in modalità xy una piccola precisazione sulla modalità alt non è che abbiamo due fasci elettronici è sempre lo stesso che commuta da un canale all'altro infatti questa modalità chop esegue sempre la commutazione dei due canali ma ha una frequenza ben determinata di 250 kHz ovviamente a occhio nudo noi non ci rendiamo conto di quello che accade ma immaginate che il fascio elettronico in alternativa viene collegato prima a un ingresso poi all'altro per renderci conto di quanto siamo vicini al segnale con un oggetto così analogico volevo farvi vedere questo esperimento adesso accendo praticamente la mia lampada al neon qui sopra e vedrete che le influenze di campo elettrico andranno ad agire anche sul nostro segnale accendiamo vedete l'innesco della lampada a gas sappiamo che coinvolge un'alta tensione e quindi dei campi elettrici intensi ha effetto ovviamente su il tubo catodico infatti vediamo che il raggio viene perturbato dal campo elettrico ma questa è proprio la potenza di un oscilloscopio analogico ci fa proprio sentire molto molto vicini al fenomeno analogico che stiamo misurando per verificare l'operatività sulla lettura dei segnali collego la sonda in dotazione al canale 1 la posizione in modalità 1x e quindi in questo caso questo oscilloscopio avrà un'impedenza di ingresso di 1 mega ohm e la lettura che andremo a fare sulla scala graduata sarà proprio 1 a 1 con la tensione letta agli estremi della nostra sonda in questo oscilloscopio la massima tensione applicabile è di 250 volt questa tensione è da intendersi come somma del valore continuo più il picco in alternata quindi state attenti nel caso soprattutto anche di strumenti un po' più vecchiotti a non superare queste condizioni ora operiamo la calibrazione della nostra sonda se vi interessa il principio che sta dietro a questa operazione potete guardare il mio video 546 che tratta degli amplificatori operazionali e la loro stabilità ma nella spiegazione ovviamente rientra anche il concetto di calibrazione della sonda perché alla fine si tratta di compensare una capacità per la calibrazione l'oscilloscopio rende disponibile su questo terminale un segnale onda quadra quindi andiamo a toccare con la punta questo terminale e la massa non è importante perché è già in collegamento e cerchiamo di trovare le impostazioni per bloccare la forma d'onda sullo schermo per visualizzare il segnale dobbiamo triggerarlo quindi operiamo sulla selezione del trigger e ci mettiamo sul canale 1 cioè diciamo che la sorgente di trigger è quella legata all'input che abbiamo collegato come seconda operazione andiamo a operare sulla scala verticale quindi la deflessione verticale per vedere se troviamo il livello adeguato come vedete abbiamo due livelli, livello alto e livello basso solo che non siamo triggerati perché vediamo solo i due livelli ora operiamo sulla base dei tempi quindi andiamo a rallentare la velocità con cui il cannone elettronico scandisce lo schermo in particolare andiamo a diminuirla vedete che si comincia a vedere, ecco qua abbiamo la forma d'onda quadra però non è triggerata, infatti vedete che va in deriva per inchiodare la forma d'onda ora devo agire sul livello verticale del trigger quindi con questa rotella andrò a selezionare la linea ideale di aggancio del segnale che sarà compresa fra questi due livelli fino a che non si bloccherà la forma d'onda ecco, come vedete la forma d'onda ora è inchiodata posso eventualmente aggiustare la mia base tempi se voglio avere più forme d'onda sul mio schermo e in questa maniera posso misurare la frequenza del segnale e operare la compensazione per sapere il valore di tensione andiamo a leggere l'indicazione sulla scala graduata in questo caso siamo a 200 millivolt di visione poi vedete che abbiamo la regolazione fine che permette di aggiustare ulteriormente la scala verticale lo stesso per la base tempi in questo caso sono nel segmento dei millisecondi punto 1 abbiamo 100 microsecondi a divisione andiamo a centrare lo 0 ecco che vedete che il nostro segnale quindi ha un livello di 450 millivolt circa e un periodo che è 700 microsecondi quindi un po' più alto di un kilohertz ora andiamo a operare la calibrazione per cercare di vedere che questi fronti siano perfettamente squadrati anche se a vederli così sembra già abbastanza compensata operiamo la calibrazione agendo su questa vite che posta proprio sulla parte finale della sonda girandola lentamente vedete che cambia un po' il segnale ora qua si appresta molto poco però effettivamente stiamo cercando di fare in modo che la costante rc dell'impedenza di ingresso del nostro oscilloscopio sia esattamente uguale a quella della sonda un'altra funzione molto interessante è data da questo sweep var che è un potenziometro che permette di variare finalmente anche la base tempi quindi al di là delle scale 1, 2, 5 presente sul commutatore questo potenziometro vedete che agisce in analogico sulla base tempi molto comodo se si vuole avere una base tempi ad hoc questa levetta seleziona la sorgente di trigger che può essere appunto canale 1, canale 2, line quindi dalla frequenza di rete usata come trigger oppure EXT, quindi un trigger dato dall'esterno le modalità di trigger sono 4 in modalità auto avremo la traccia anche in assenza del segnale di ingresso quindi diciamo che è un auto trigger nel senso che non ha bisogno dell'impulso viceversa in norm vedete che è sparita la traccia perché non abbiamo nessun evento di trigger che la cattura poi abbiamo due modalità molto interessanti che andavano molto di moda a quell'epoca per i riparatori tv che sono il tv v che ci permette di sincronizzare il quadro completo di un segnale televisivo e il tv h che invece sincronizza la riga di un segnale tv quindi sincronismo di riga queste due modalità di trigger sono molto importanti per chi va alla caccia di questi segnali e in particolare questo strumento ha anche questo piccolo circuitino che permette proprio di inchiodare i segnali di sincronismo della televisione una cosa che mi ha sempre affascinato degli oscilloscopi analogici è la possibilità di vedere il fascio elettronico se io con la base tempi vado a tempi lenti quindi sull'ordine delle frazioni di secondo vedete che il raggio rallenta fino a quasi bloccarlo ovviamente l'intensità è molto elevata perché tutto il fascio è concentrato su un punto però è una modalità secondo me molto simpatica se sposto poi la deflessione verticale quindi dando l'offset ho proprio l'impressione di pilotarlo manualmente un'altra regolazione che si può fare è quella sul livello di zero quindi mettiamo il nostro oscilloscopio con ground sensibilità al massimo quindi 5 millivolt vedete che lo zero non è proprio preciso allora in questo caso si può agire qui sotto che abbiamo l'accesso a un potenziometro che se girato ci permette di riterrare lo zero ecco questo però se ne si può ripetere anche per il canale 2 così siamo sicuri che lo zero il ground è esattamente centrato bene e con questo termina il video sulla riaccensione controllata di uno oscilloscopio vintage Itachi modello V209 vi consiglio se vi dovesse trovare in questa situazione di oggetti spenti per molto tempo di andarci sempre veramente con i piedi di piombo come sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.